siamo live siamo live siamo live hai detto siamo live siamo in live 40 a 90 signori questa bestia dalle mille risorse e mille abbondanze stratosferiche nell'universo che ci colmo al cuore di caldo e calore e ci esprime e fu e fu ria antonica allora il fai sport palace non ha prezzo pantaloni non so che brand siano 2 euro poi braccialetto di logitech gaming un cappello cappello xpg è molto bello questo cappellino hanno tolto l'adesimo sotto perché sennò si vede la mera è molto bello molto particolare della new era tra l'altro questo quanto vale qui verrà un 30 40 euro no no siamo nell'era in cui le cose costano 8 mila euro ecco io non ho prezzo va bene a parte scherzi finiamo di montare utilizziamo la pasta termica pasta termica voi spiegarete con questo non è omogeneo sai perché cambia questo perché ci sono appunto le delle micro fessure bravo madonna come se bravo ok ci sono delle micro fessure detto questo passiamo poi ovviamente alle ram che abbiamo ma la bellezza di 7400 megabyte al secondo rispetto ai 7000 che hanno normalmente gli altri ssd quindi diamo dei più veloci ok questo primo piano mette sul sacco esatto lo sapevate che sudiamo già allora vediamo un po che promo possiamo vedere abbiamo abbiamo monitor computer fissi però qualcosa qualcosa di interessante dalla chat non c'è qualcuno che è interessato qualcosa ti do il prezzo ti do subito il prezzo il prezzo giusto grazie a tutti